Salve a tutti raga, oggi per RetroGamers come vedete siamo su Small Soldiers ebbene se esiste pure un gioco uscito su PS1 nel 98 che in realtà è diverso dal film in un certo senso perché appunto non siamo nel mondo reale ma hanno voluto concentrarsi di più proprio sulla rivalità tra i due eserciti come sappiamo dal film e quindi siamo proprio nel mondo di gioco vero e proprio come giocatore singolo saremo dalla parte di Gorgonauti ovviamente i più forti invece nel multiplayer potremmo anche scegliere di controllare ovviamente anche il generale si tratta di un'avventura shooting, abbastanza carina come appunto conferma anche la critica l'unico problema sta nel fatto che la telecamera si muove insieme al personaggio stesso quindi un pochino scomodo, comunque vediamo forse un po' basso Yeah, kill them all! And now the war is coming here to Gorgon, our home world La guerra arriva nel paese di Gorgon I temi che ho sotto se ce l'avevate che non ho sentito molto spesso il gioco di Small Soldiers Yeah, spacchiamo tutto Commando se hanno invaso Gorgon bisogna salvare i Gorgonauti di catturato Starfighters mi porterà poi ancora più in alto uso lo Spirit Wells per attraversare questo orame Help Keep e Beepon a ogni costo, va bene è bello questo tema Doom comunque eccoci qua e la telecamera come vedete è così io sto muovendo solo il pad o anche le frecce, si è la stessa cosa non c'è L1 R1 come ci si aspetta per muovere la telecamera tutto assieme quindi io mi muovo e sposto tutto come state vedendo con X si salta guardato si spara e poi abbiamo anche L1 R1 per invece spostarsi lateralmente e per chi vuole la mira precisa ovviamente c'è sempre R2 e si spara con guardato anche se in realtà è una buona automira non perfetta per quello esiste la mira precisa però come vedete così, così e bisogna fare così praticamente salvare sempre lui che per fortuna ci aiuta appena lo liberiamo una bellissima avventura che giustamente ha molto più senso senza pensare al film vero e proprio prendiamolo gioco quindi approfondiamo un po' proprio la lore che stava dietro al film cioè la rivalità tra i gorgonauti che vogliono liberare i soldati che vogliono uccidere l'ho apprezzato molto per questa scelta perché uno magari si aspettava di vedere qualcosa riguardando più legato al film ah già la fiamma mi fa volare mi fa volare salve ma comunque è divertentissimo ditemi questo testo ce l'avete che avrebbe veramente una fortuna verde veramente diverso poi anche complimenti per il controllo di luci che su PS1 mica così scontato come vedete man mano che ci avviciniamo si illumina la zona se forse devo muovermi un po' più di così esatto forse così anche se è stranissimo per me giocare così no esploso ma non ci arrivo però strano ci sono oggetti lassù oh c'ho sento già spari ma c'è un altro blocco dimensionale dove vado no 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 però vabbè adesso liberiamole poi torniamo indietro al massimo muorici muorici ma anche questo è il libro di difficoltà come notare che sia proprio per tutti questo gioco eccoci eccolo qua un pazzo furioso bellissimo no ma io adesso sono curioso di sapere cosa c'era in quel blocco dimensionale magari se lo andiamo indietro io lo so ah ah ecco come si arriva qua su ah mi pareva ebbe una vita extra ma che figo ma che figo poi la musica ci vede tantissimo sembra le pieghe di gitto ma comunque occio eh occio qua no ho perso i proiettili speciali appena lo vuoi colpire ragazzi e forse con la mia precisa è un po' meglio olè ancora perché anche tenendo premuto continua a sparare è fatto in questo modo oh ben otto vite vedendo e scherzando anche questo livello è fatto e mi sembra che al primo 3 mi sono affermato qua quindi non so più niente occio ancora eh non mollano questi ogni volta sembra l'ughi disegnato piglialo 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 è qua è qua piglialo mi hanno visto un po' tutto mi sa no però deve sparare in alto quindi devo fargli fare così voilà adesso arrivo adesso arrivo olè a posto liberiamolo al volo olè eh sì mi sa che l'ho liberato dopo averlo salvato salto della vita no c'è ancora gente che spara salto della vita parte 2 salve permesso permesso adesso vi giro eh adesso vi giro con calma non sono un attimo a abituarsi ai controlli ma non sono così terroribili che ridere salve ma non l'avevi attaccato prima e forse perché mi sono andato sono stufati di combattere e anche questa è fatta veramente olè uh occio eh occio qua eh eccoci eccoci olè e questa è fatta occio occio e che sbatte la porta e chiude urlando e questo salve ma no è vero quando sono storti sono amici miei è vero c'era sempre anche questa differenza estetica eccoci ah no è una chiave complimenti vendito a kill un try mica male molto bene eh certo ho trovato solo un segreto il tempo di missione è stato attacco vedete la chance to summon per evocare il portale Gorgonauti stanno avanzando ma poi è anche figo il nome Gorgonauti che c'è un sacco e ovviamente io prenderò subito la sala giusta schippando i segreti del livello come al solito eccolo qua salve eh la chiave è for me ma grazie ah capisco andiamo di qua un attimo è tutto ah figo con i colori abbinati semplicemente così uno non si confonde capisce al volo c'è la chiave è verde andiamo nel verde salve come rotola via agilmente e qua che devo fare si appende davvero aspetta un attimo perché tanto quella chiave è obbligatoria quindi però così giusto lo sapevo cio cio guarda come trovemo male dai però allora devo fidarmi che si appende vediamo uh si appende però davvero figo eh però devo dondolare di più mi sa salve dai morici morici mollami mollami mi devi mollare mi devi mollare oh finalmente adesso abbiamo tutti i verdi pensate ah e siamo qua perfetto abbiamo capito che si appende bisogna solo darsi lo slancio salto della vita così basta dici si quanto pare si non sembrava si vedesse chissà che slancio invece si allora qua abbiamo porte rosse no ma in realtà abbiamo una porta verde apriamo la porta verde che devo comunque poi tornare dallo sciamano che mi da la chiave perché ho la skin rossa ho preso un oggetto rosso che non ho capito posso please grazie gentilissimo benissimo tutto chiaro chi è spero che non muoiano gli sciamani perché mi servono figo così così cambia anche un po' lo stile di livello perché a differenza del primo che era lineare questo è un po' più aperto ci sta interessante come scelta posso giusto sì però unica cosa gioco se mi dessino cura gentilmente perché ma ci arriva che misera che salti eccoci vai vai e poi in realtà ha la forma dello sciamano vola vola cazzo ma forse ho capito semplicemente per saltare basta che si è piegato in avanti lui ci arriva però deve essere piegato salve ah ma qui c'era anche la scorciata del fuoco tra l'altro muoio però se non mi curi gioco io non ahia minchia che bomba atomica che mi ha buttato addosso in realtà forse mi conviene respawnarlo scusa mi dà un grosso vantaggio così andiamo da lo sciamano perché mi sa che che ce l'ho qua esatto mi conviene respawnare perché tanto ritorno qua quindi purtroppo se tra l'altro ce n'è uno anche qua eh un attimo però se per il resto mi bastano di vita ovviamente però un pochino ci sta come sistema vola ma ah no ok non so cosa ho preso ma forse mi fullava questo non lo so salve ma perché c'è la barriera questo troppo forte troppo forte questo è giallo ah di qua non sono andato a parte trovano i nemici cosa serve hanno le porte esce diecce vai cazzo vai andiamo a fare il giro al contrario ma cosa guarda da te se lo piglio eh no effettivamente il combattimento è un po' ostico con questi controlli c'è da dire salve e ce l'abbiamo fatta ridendo scherzando ma sto cono gelato ho un po' di vita credo si fullato poi è tutto aperto è tutto apposto perfetto anche di là giusto ma secondo me potrebbe anche piacere anche a chi non ha visto il film di small soldiers grazie al fatto che sia così distaccato dal film stesso anzi magari lo convince anche a vedere il film prendimi perfetto forse sono segreti questi mi sa devo fare il salto della vita mi aspettano laggiù prendimi no il cazzo stavolta ho sbagliato proprio direzione però almeno l'ho preso giallo apriti sesamo salve ok salve ci arrivo? ci arrivo si ci arriva anche lui mi sa ci vado solamente costante più facile colpirmi perfetto e purtroppo devo sospendere diciamo a metà il gioco comunque questa era la pausa con i più curiosi semplici o continuo a quit e niente quindi ditemi qua sotto cosa ne pensate se vi è piaciuto perché a me sta piacendo tantissimo lo continuerei mai quindi ditemi qua sotto se lo avevate e ce la mi stavate